Due agenti in servizio nel commissariato di Comiso, Italo Cerro e Maurizio Castiglione, sono stati premiati questa mattina in municipio nella città casmenea. Il sindaco Giuseppe Alfano ha consegnato loro una targa di riconoscimento per un loro intervento che, nel luglio del 2010, ha salvato un uomo che aveva tentato il suicidio. I due stavano pattugliando a bordo della volante la città quando è stato richiesto il loro intervento in via Virgilio, nel quartiere Immacolata. Lì era stata segnalata la presenza di un uomo che si era chiuso in casa ed aveva aperto la bombola del gas. I due agenti sono riusciti ad entrare, a portare all'esterno la bombola e a salvare l'uomo. Questa mattina è arrivato il grazie della città, simboleggiato dalle due targhe consegnate agli agenti dal sindaco Giuseppe Alfano insieme al questore Filippo Barboso. Era presente anche l'ispettore capo Roberto Guccione.